Una filiera virtuosa che parte dalla marineria pescherese giunge all'Università Gabriele D'Annunzio per dare un forte contributo alla battaglia contro la plastica in mare. L'idea quasi casuale da una semplice chiacchierata tra il magnifico rettore Sergio Caputi e il presidente dell'Associazione Armatori Francesco Scordella. Da una parte una flotta di 40 barche che già da tempo si prende cura del mare, rimuovendo rifiuti di ogni tipo. Dall'altra la possibilità di raccogliere ed analizzare questo materiale per fornire importante conoscenza e attivare anche meccanismi di riciclo e riutilizzo tramite appositi progetti. L'iniziativa pilota sarà interamente finanziata all'Università e vedrà partire una fase sperimentale già dal mese di luglio. Ed è un progetto pilota che riguarda ovviamente l'ambiente perché possiamo tra virgolette iniziare a fare una raccolta della plastica in mare e soprattutto chiudere il cerchio facendo le analisi della plastica, vedere quali microorganismi si attaccano sulla plastica, il degrado della plastica, più altre ricerche che metteremo in atto sopra il materiale e poi cercheremo di chiudere il cerchio vedendo un pochino cosa fare con la plastica residua. Abbiamo pensato a dei mattoni per l'edilizia piuttosto che alcuni oggetti che stiamo pensando di realizzare. Cioè in altre parole chiudere assolutamente il cerchio partendo dalla pulizia del mare fino ad avere un prodotto utilizzabile sul mercato. È un'iniziativa bella per il futuro, per l'ambiente, per le nostre attività, per il prodotto, quindi cerchiamo in tutti i modi nel nostro piccolo di contribuire a questa raccolta delle plastiche grazie anche al sostegno dell'Università che ci dà la possibilità insieme a qualche altra azienda di smaltire poi queste plastiche a terra. Vieni presente che il mare non solo plastiche ma ne trovi di tutto perché i fiumi purtroppo quando ci sono esondazioni e quant'altro anche l'incurio dell'uomo troviamo di tutto in mezzo al mare quindi quello che troviamo principalmente le plastiche di riportare a terra quindi pure che una giornata ne prendi 20 kg, 30 kg ogni barca, dipende. Sarà molto utile per fare una geolocalizzazione della plastica nell'Adriatico. Noi vogliamo partire con l'Adriatico naturalmente ma estendere poi il progetto alle altre regioni italiane e anche i paesi che affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio.